Mi chiamo Giusy Versace e questa è la mia incredibile storia. Il 22 agosto del 2005 è stato un anno, è stata una data che non potrò mai dimenticare perché ha segnato appunto la mia vita in due parti, la divisa segnando un prima e un dopo. Però noi possiamo decidere come affrontare gli eventi, possiamo decidere se ridere o piangere. La mia medaglia più importante l'ho vinta il giorno in cui ho imparato a guardarmi allo specchio e a guardare comunque una Giusy ancora sorridente e propositiva come prima, anche con due gambe in meno. Lo sport ti regala tanto. Io quando corro non mi sento invalida, io quando corro mi sento felice, mi sento che veramente posso andare a prendermi il mondo. Lo sport aiuta a raccontare le storie di persone speciali, di persone eccezionali, di persone che non si sono scoraggiate e che sono riuscite a sorridere alla vita. Unisciti a me nel mio incredibile viaggio a Doha in ottobre. Unisciti a te�... Grazie a tutti.